Devo trovarmi con una mia amica a Piazza Cavour, credo. Oggi, allora adesso sono a Milano perché siamo andati a vedere una lezione per la mia vita, chiamo a me e ci devo stare e poi, non lo so, tra un po' torniamo. In teoria stasera dovrei mandare anche i gas, però... E tutto il gruppetto. Non è d'accordo che alla fine ci vediamo domani pomeriggio, che ti vengo a prendere a scuola alle due. Però, tipo, la gonna quella che metto sempre. Qualc'è il tigiano solito, Antone? E poi, se scende un po' prima, ci possiamo vedere. Fra, sono in strainanza, aiuto. Sì, praticamente mia mamma non si fida, ma non vuole che si vuole, non vuole che arriva in giro, perché ho detto che la situazione sta peggiorando un po'. Lavoro a 60 anni. E non c'è un luogo chiuso. E' giusto che abbia questo punto di vista, ma comunque si hanno riaperto anche i bar in generale dopo le 6. Mi ha portato giù la mamma, Antone, perché anche lei non si fida per me prendere il pullman. Buongiorno Marti, come stai? Come stai passando questa situa da Corona Time? Amore, come stai? Io mi sto annoiando a morte, ti giuro, ho perso il senso del tempo. Se tu esci, tipo per andare a Como, se ti fermo non devi dirgli perché stai andando a Como e deve essere per forza per ragioni... Secondo te è fino a qualsiasi prima cosa? Poi già bisogna essere per forza sicuri al 100%, Quarto giorno in casa, ti giuro mi sto deprimendo un botto, il mio Netflix mi sta dicendo di uscire di casa, il mio Instagram pure, il mio cervello invece mi sta dicendo che dovrei iniziare a studiare. Anche io, anche io, guarda, mi vengo a spararmi. Vado a sfondarmi di cibo come ho fatto per questi ultimi quattro giorni. No, comunque, niente, ho fatto tutta un'ottima video lezioni adesso. Cioè, per carità, il lago è bellissimo, però... A parte che adesso non posso uscire neanche qua a Prianno, perché tipo continuo a passare la macchina, sai quella col... Perché qua dicono tipo fino al 2 maggio, fino a maggio. È assurdo, perché sembra di vivere dentro a un film. Ogni cosa ha il suo posto, capito? Cioè, io non mi riconosco. Poi però mi giro e mi ricordo chi sono, vedendo il resto della stanza che ho deciso di non inquadrare per... È triste, perché fa mega ridere, ma non l'ha visto nessuno, capito? Ora arriva il momento più intenso della mia giornata, ossia quello di fare i letti. Mi sto divertendo un casino. Farò il mio diciottesimo a casa. Scusa, sono ancora nel letto. Tu invece che cosa stai facendo di entusiasmante? Cioè, che tutta l'Italia si sia fermata. E io sono su Hangout, dove dice ciao Martina. Sto leggendo un libro di mia spontanea volontà. E mi piace pure. Comunque dai, alla fine non è così male stare a casa. Cioè, più o meno. спасибо.